L'Assemblea Legislativa Regionale ha approvato oggi una proposta di legge a tutela delle cosiddette vittime delle dovere, vale a dire gli appartenenti alle forze armate, forze dell'ordine, vigili del fuoco e polizia locale che nel corso dello svolgimento della loro mansione sono andati incontro a infermità permanente o, nei casi peggiori, al decesso. Una proposta di legge che ha avuto il consigliere peserese Nicola Baiocchi fra i relatori firmatari. Una proposta di legge molto importante che racchiude in realtà tre proposte di legge, una presentata come primo firmatario dal consigliere Marco Ausili, una dalla consigliera Marta Ruggeri e una dal presidente Dino Latini. È un insieme di proposte veramente interessanti, veramente strategiche per questa regione perché vanno a ribadire qual è il concetto, la vicinanza che questa regione ha nei confronti dei soggetti che sono vittime del dovere e quindi un passo importante di riconoscimento sui valori fondanti di questa regione come della nostra nazione, della democrazia, della legalità. E quindi questo aiuto va nei confronti delle famiglie di queste persone, nei confronti di questi soggetti che eventualmente sono rimasti avuti postumi invalidanti e va a denotare qual è veramente l'attenzione da parte di questa regione verso queste persone che danno veramente un aiuto e garantiscono i principi di legalità e di sicurezza all'interno della nostra nazione e della nostra regione. La proposta di legge riconosce indennità e agevolazioni ai familiari delle vittime del dovere per un valore di 40.000 euro nelle 2022. Nella legge sono previste borse di studio dalla scuola primaria all'università per i figli delle vittime del dovere che prestavano servizio nelle marche. Famiglie che beneficeranno anche delle esenzioni di ogni spesa medica e farmaceutica. La legge ha integrato anche la proposta del Movimento 5 Stelle di includere la polizia locale nelle tutele in questione. La nostra proposta prevedeva che oltre alle vittime del dovere, oltre alle categorie che fanno parte della legge nazionale, ci fosse anche la polizia locale. Mi fa piacere che sia stata accolta questa nostra proposta, quindi la nostra legge regionale avrà appunto anche la polizia locale tra coloro che verranno, se caduti durante l'espletamento del proprio dovere, risarciti. La nuova legge indice anche la giornata regionale in onore delle vittime del dovere e la giornata regionale delle vittime del terrorismo individuata nella data del 9 maggio.